buongiorno a tutti anzi buonanotte vista loro buona mattina quello che è allora mentre si sta caricando il secondo video perché come al solito c'è i criceti a volte sono rapidi a volte sono lenti quindi i due video che ho fatto nella giornata di giovedì uno si è caricato nella nottata diciamo e uno si sta ancora caricando quindi lo vedrete nella mattinata di oggi volevo fare questo video innanzitutto per darvi una notizia che magari a voi non bene fregherà più di tanto comunque mi arriva mi sono arrivate le due cartucce per la stampante quindi adesso con le cartucce sono a posto per un po un po tanto veniamo alla questione perché anche stasera ho visto un video su facebook l'ha postato la mia parrucchiera non ho nessun problema a dirlo di una signora di verona che penso a parte è una partita iva no la cosiddetta partita iva da quello che vedevo stava facendo il video dal suo negozio che penso fosse un salone di bellezza anche doveva essere una parrucchiera anche lei era abbastanza inviperita perché giustamente diceva non potete tenerci chiusi ancora un po perché io devo pagare l'affitto del negozio pagare l'affitto di casa pagare le bollette pagare questo pagare quello pagare quell'altro se non lavoro e non guadagno non posso pagare nessuno e a me lì viene in mente ve lo avevo già fatto l'esempio della cicale della formica solo che qua siamo c'entra poco tra virgolette mi viene in mente perché c'è chi questa pandemia nonostante sia costretti a stare a casa la supera tra virgolette tra virgolette perché comunque ha fatto la formica prima ha avuto la fortuna di poter fare la formica prima mettersi da parte dei soldini che adesso mi deve erodere tra virgolette perché ahimè non può lavorare e c'è chi purtroppo come cantava battisti già anche lavorando al 21 del mese i soldi li aveva finiti e se non entrano lui non ne ha poi naturalmente ci sono i casi a parte ma sono rari di quelli che alla doghi ci hanno loro sono delle partite iva che guadagnano bene si possono permettere di lavorare guadagnare andare in vacanza tornare lavorare guadagnare andare in vacanza e non mettono via niente in questo momento tra virgolette per causa loro sempre tra virgolette perché magari qualcuno si potrebbe anche offendere ma io guardo i casi non sto a giudicare nessuno però in quel caso lì hai fatto la cicala e adesso ti trovi in difficoltà ma la maggior parte delle persone che sono in difficoltà non hanno fatto la cicala hanno lavorato eccetera per potersi permettere di vivere lavorano per vivere e magari fanno anche fatica ad arrivare a fine mese proprio come partite iva e lì essendo stato una partita iva per 24 anni ho avuto un negozio di cartoleria per 18 e ho lavorato nello stesso tempo per 12 anni come rappresentante nello stesso periodo e nel periodo successivo quando non ho avuto più il negozio per altri quattro anzi per altri cinque anni perché poi dopo sono andato a lavorare in remas per un anno come agente immobiliare e poi l'unico lavoro tra virgolette che non si poteva neanche definire lavoro perché davo una mano a mio amico prima di trasferirmi al lago per sei mesi ho lavorato per un'agenzia di eventi ma facevo un favore a un amico non stavo neanche non ero né contratto né niente ero lì mi fa vuoi venire a darmi una mano visto che sei a casa a fare il pinocchio almeno stai con me passi un po di tempo vedi un po di topa che non fa mai schifo e in effetti era impegnativo ma avere in mezzo a tante belle ragazze quindi so cosa vuol dire fare la partita iva e so cosa vuol dire cos'erano tutte le accuse che ci che mi facevano ve l'ho detto sempre quando avevo la cartoleria c'avevo alcuni miei amici qua che venivano al lago ma erano brianzoli milanesi eccetera che mi facevano sempre la battutina e ma quel prodotto lì tu quanto lo vendi io gli dicevo lo vendo a questa cifra e se un cartoladro perché io al supermercato l'ho vista un terzo eccetera eccetera ma è logico io ho una cartoleria di 30 metri quadri più 20 di cantina e il supermercato ha 200 metri quadri e quello io ne prendo un pezzo loro ne prendono mille o io ne prendo 10 loro ne prendono 10.000 quindi hanno dei prezzi completamente diversi hanno dei pagamenti completamente diversi eccetera eccetera quindi non posso competere però loro cartoladro quando facevo il rappresentante se stavi a casa non mangiavi perché poi dopo devi sempre correre quindi è vero che avevo il mio fisso ma ero monomandatario quindi potevo permettermi di avere un fisso ma non è che mi davano 50.000 euro al mese quindi ti dovevi dare da fare e alla fine del mese non sapevi cosa potevi guadagnare avevi il fisso che era sicuro e poi c'era un punto di domanda quindi è facile dire ma qua ma su ma giù quindi purtroppo in questo momento la situazione è quella che è in più è vero abbiamo avuto quanti 10.000 morti su 60 milioni 60 milioni di abitanti 10.000 morti uno può dire ma i Gigi sono morti in tre mesi e allora in Africa muoiono tutti i giorni 3.000 4.000 5.000 persone ma stando bassi è stando bassi ma non gliene frega un cazzo a nessuno muoiono in Italia si blocca tutto è il problema è che qua se non si riparte la gente o muore di fame o fanno come la rivoluzione francese e qualcuno finisce con la testa mozzata perché questa signora qui che ha fatto il video era abbastanza inviperita ha detto guardate che se entro il 4 maggio non arrivano un po' di soldi non 600 euro perché io con 600 euro non vivo non ci pago giusto le bollette non ne arrivano un po' di più altro che andare in banca a fare il prestito voi ci dovete volete che stiamo chiusi ci pagate quello che perdiamo perché se no noi moriamo di fame perché c'è chi può fare smart working c'è chi prende la cassa integrazione c'è chi magari può lavorare lo stesso da casa o comunque fa un lavoro da casa può permettersi di lavorare lo stesso avere il suo stipendio tranquillo perché può fare le stesse cose che faceva prima da casa ma la maggior parte delle persone ahimè ha bisogno di andare sul luogo di lavoro eccetera se c'è la fabbrica chiusa prende la cassa integrazione i rappresentanti con i negozi chiusi i cantieri chiusi dove vanno stanno in casa se uno è monomandatario come lo ero io magari l'azienda al fisso glielo paga lo stesso magari ma non è detto perché l'azienda può benissimo dire ciccio c'è tutto chiuso c'è tutto fermo tu stai a casa io il fisso non te lo do quindi se lui magari i soldini non se li è messi da parte prima ha avuto la fortuna di metterli da parte prima sono dolori poi dopo pensi a quelli che hanno le pensioni d'oro pensi a quelli che ti escono fuori ma io con 8 mila euro al mese non riesco a vivere come disse un famoso giornalista o anche quell'altro che è uno che ha lottato per i lavoratori che prendeva 5 mila euro al mese gli hanno dato 200 e 200 euro mi hanno tolto 200 euro non riesco più a vivere come con 4800 euro dagli a me io con 4800 euro ne metto via un minimo 2000 al mese quando ne metto via pochi e vivo benissimo ma cosa dico 2000 ne metto via su 4800 ne metto via 2008 forse anche 3500 cosa devo spendere quando uno ha la sua bella casa ci paga giusto le spie certo se tu fai la bella vita sei abituato ad andare a spenderti 300 400 euro a sera allora sì non ci stai dentro ma una persona normale con 4800 euro campa alla grande io quando sento un altro giorno ho scritto c'era un articolo su alvaro vitali che penso conoscano tutti che poverino tra virgolette diceva ho fatto 150 film e vivo con mille euro al mese e qualcuno sotto una mia carissima amica mi ha scritto ma con mille euro al mese puoi vivere benissimo capito che puoi vivere benissimo a questo questo qui ha fatto 150 film con tutto il rispetto per chi ha fatto altri lavori eccetera con tutto il rispetto penso che magari se anche ne prendeva 2000 non è che erano rubati se pensiamo che qualcuno ha fatto quattro anni di lavoro se va bene a dormire in parlamento e adesso ne prende 5000 al mese meditate poi ragazzi io qua staremo a vedere cosa succederà ma temo che la maggior parte delle persone che hanno la partita iva che hanno negozi che hanno bar che hanno ristoranti che hanno che ne so negozi negozi in generale eccetera perché quali 11 che si salvano sono i negozi di alimentari l'altro giorno sentivo che stavano facendo la multa a uno che ha la gelateria che gli dicevano la gente non posso stare fuori a mangiare il gelato deve entrare prenderlo e portarlo a casa direttamente e stavano facendo la multa al gelataio gli stavano dicendo io le faccio chiudere e le faccio la multa le faccio chiudere cioè gli dai il permesso di riaprire alla gelateria e la gelateria deve obbligare le persone che vanno a comprare che sono lì in fila a due metri con la mascherina e tutto quanto devo prendere e andare a casa direttamente non posso neanche farsi due passi lì stando sempre a distanza con la mascherina per mangiarsi un gelato che poi non so come facciano mangiare il gelato con la mascherina ma vabbè lasciamo perdere però cioè non è che loro possono obbligare le persone dovete andare a casa cioè il poverino ha fatto la gelateria entrava da una parte usciva dall'altra in modo che così non c'erano incroci uno entra prende il gelato esce dall'altra parte di là uno entra prende in questo modo c'era flusso continuo non c'era assembramento non c'era niente cioè organizzatissimo eccetera sono andati a come diceva qualcuno i romani facevano parcere retti debellare superbus qua facciamo parcere superbus e debellare retti perché veramente non ho non ho parole l'altro giorno hanno fermato anche madre e figlia perché la madre stava accompagnando la figlia a fare una visita medica faccia un assembramento in due in macchina madre figlia la figlia doveva andare con i mezzi allora tu mandi una ragazza che non sta bene perché se deve andare a fare degli esami non sta tanto bene a rischiare di prendersi qualcosa su un mezzo che sicuramente non sarà igienico igienicissimo con dentro altre persone che magari non potrebbero anche essere asintomatiche o che cosa e gli impedisci di andare in macchina con un consanguigno e gli dai la multa di 1.366 euro cioè qua vogliono fare cassa non lo so io veramente non ho parole poi vabbè lasciamo perdere Giuseppi che oramai sta facendo noi permettiamo noi facciamo meno male erano quelli buoni quelli bravi quelli onesti eccetera vabbè io francamente non ho parole non ho veramente parole non lo volevo fare questo video ma stasera quando ho sentito quella signora lì disperata che ha detto io il 5 maggio prendo e vengo a farti un culo così a Giuseppi ho detto e questa è una signora di Verona penso del veronese perché parlava con l'accento veneto quindi se una signora tranquilla per bene la pensa così figuratevi qualche esagitato cosa può succedere io francamente ripeto è brutto dirlo abbiamo avuto 10.000 12.000 morti non lo so non sto neanche a guardarli eccetera cerco di rispettare le regole e quant'altro il più possibile addirittura adesso la spesa la faccio due volte al mese una volta ogni 15 giorni però francamente ragazzi io sono siamo sul livello tra un po' se andiamo avanti così c'è l'altro che la rivoluzione francese qua succede il finimondo perché sapete benissimo cosa diceva baspenza non c'è cosa peggiore di un buono quando diventa cattivo io sto vendendo tanta gente per bene per bene onesta eccetera che gli stanno girando i testi e quando la gente per bene gli girano i testi e qua mi fermo qua mi fermo ho parlato anche troppo mi sa che qualcuno sicuramente Gigi cosa hai detto come ti permetti qua lasso giù però ragazzi io resto resto parecchio preoccupato perché se andiamo avanti così tanta gente o muore non è che muore dico muore o di fame o perché sennò fa l'assalto all'arma bianca e fanno come in piazza Tiananmen che devono intervenire i blindati e poi dopo non so cosa possa succedere spero di no spero di no spero che la gente comunque è per bene tranquilla però è andata giù pesante ed era una persona per bene una persona buona tranquilla si vedeva non era una persona per bene che ha detto plurime volte io il 5 maggio vengo a prenderti quindi io non ho parole ragazzi ve l'ho detto in tutta la mia vita una situazione del genere sono diversamente giovane quindi ne ho viste di cose gli anni 70 da piccolino li ho vissuti non era una situazione bellissima ma non siamo mai arrivati a questo livello qua siamo messi molto molto peggio detto questo ci vediamo alla prossima ciao